oggi non cucino ma condivido con voi un consiglio antisprecco avete acquistato delle patate in questa rettina qua cosa fate di solito la buttate io ho fatto il taglio qui con il coltello e ho tolto insomma le patate all'interno pian piano ovviamente non le mangiamo tutti in una volta con una forbice andremo a rimuovere l'etichetta eccola qua ora non dobbiamo fare altro che riempire la rete con i giochini da portare al mare in questo modo quando andiamo via dalla spiaggia essendo una rete la sabbia va giù e non la portiamo in macchina in commercio trovate le rettine da spiaggia da acquistare però secondo me non c'è bisogno di acquistarli possiamo benissimo riciclare queste delle patate che sono molto resistente molto comode svolgono appunto la stessa funzione di quelle rettine che si vedono in commercio no e quindi ricicchiamo facciamo bene all'ambiente e anche alle nostre tasche se il video vi è stato utile condividetelo con i vostri amici vi saluto e buon mare a tutti ciao